Ciao ragazzi, oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta più volte che sistema utilizzo per montare sulla moto uno smartphone, un action cam, un navigatore? Allora, io da tempo ne ho provati un po', ho provato vari marchi mi sto trovando particolarmente bene con queste palline queste palline, ecco qua, la prima è montata sul manubrio la seconda in una sezione ancora più piccola di questo supportino si chiama un attacchi RAM ci sono di vari tipi, di varie dimensioni in particolare uso questo sistema molto semplice e molto elementare una staffetta AU dove io con questo riduttore posso montarlo su una sezione piccolina e più piccola del dito oppure modificando i riduttori che vengono dati in dotazione riesco a montarlo sulla sezione più piccola del manubrio che è da 22 fino ad arrivare alla sezione più grossa del manubrio allora, andiamo a vedere nello specifico come funzionano appoggio la telecamera, scusate le vibrazioni ma sono seduto sulla moto allora, andiamo a vedere per primo l'X-Grip che è quello che mi è stato chiesto nello specifico l'X-Grip è per montare gli smartphone allora, è dotato di una superficie praticamente si può dire collosa è questa gomma molto... adesso magari la vedete un po' sporca perché ho fatto un po' di fuoristrada e ho tirato su della polvere ha un grip pazzesco, basta già appoggiare il telefono e si capisce la solidità di questo prodotto in più ha questi nottolini molto gommosi, anche questi dotati di un gran grip quindi è un attacco a molla di conseguenza posso montare vari telefonini anche qua dietro c'è la pallina la superficie è gommosa, come tutte le palline, anche questa qua la superficie è gommosa e questo elastico è un elastico sempre in dotazione di sicurezza andiamo a vedere come si monta questa pallina là sopra in dotazione con l'X-Grip mi hanno dato eccolo qui questo braccetto è un braccetto medio c'è quello più lungo, c'è anche quello più corto e quello andiamo a vedere dopo e innanzitutto di metallo si può sentire dal suono e già al tatto si sente con un prodotto di ottima fattura c'è questa molletta che è molto comoda io lo vado ad attaccare così e già si sorregge da solo dopodiché monto il mio X-Grip adesso lo oriento in maniera tale da farlo vedere bene alla telecamera e infatti si può vedere come riesco a montarlo come riesco a orientarlo veramente dove voglio quindi in base a dove lo monto se in mezzo alla moto e di lato come ce l'ho io sulla manopola sinistra vado a stringerlo quanto basta poi prendo il telefonino eccolo qua pigio leggermente lo appoggio e già sento il grip posteriore e lascio andare ho pure acceso il telefonino va bene non ci interessa ok perfetto allora adesso si sta accendendo il telefono perché ho tenuto premuto per sbaglio quindi non voglio far non voglio far pubblicità al telefono allora lo oriento meglio una volta orientato stringo per evitare questa regolazione basta che io inserisco questi elastici di sicurezza anzi questo elastico perché è uno solo e ha una forma particolare allora ecco fatto questo telefonino non si muoverà più vediamo come è attaccato questo posso stringere addirittura ancora un po' ma non serve perché questa superficie gommosa fa sì che il braccetto la manina penetri all'interno di questa gomma quanto basta per non muoverlo più allora io ho fatto fuoristrada anche abbastanza gravoso diciamo con il telefonino o l'ho fatto anche addirittura col navigatore che adesso voglio smontare al volo per smontarlo al volo ci sono due modi o allento e stacco tutto oppure tac tac via basta ho tolto il telefonino per togliere tutto il supporto ci vuole veramente poco lo svito e me lo metto nello zaino così non rimane più niente allora lo stesso sistema lo fanno per i navigatori la TomTom questo è il vecchio sistema io ho un TomTom Rider di vecchia generazione che ancora mi trovo bene per girare diciamo su in città ti dà in dotazione il suo supporto adesso voglio farvi vedere l'attacco un po' più piccolo che è questo un secondo solo questo è l'attacco corto voglio farvi vedere la differenza attacco corto attacco medio vediamo se riesco a un quadralli meglio si sta smontando in mano attacco corto attacco medio quindi c'è anche quello più lungo che io non ho allora stesso discorso appoggio leggermente mi oriento come preferisco il mio navigatore in questo caso è un TomTom ma c'è per Garmin c'è veramente per tutto e poi vado a prendere il navigatore e con estrema facilità lo vado ad attaccarlo oriento meglio anche questo lo posso orientare veramente come voglio questo pesa notevolmente di più di un telefonino e ripeto io ho fatto fuori strada con questo navigatore che come vediamo è bello a sbalzo quindi le sollecitazioni sono non poche e non si muove veramente di un millimetro la TomTom come accessorio vende anche questa base con la possibilità di attaccarla direttamente alla corrente fanno anche per gli amanti dell'action cam la pallina per la GoPro compatibile con tutti i modelli di GoPro in questo caso una 3 Black Edition stesso sistema braccetto corto lungo medio quello che sia allento inserisco stringo oriento come voglio quindi in questo caso facciamo finta che voglio fare una ripresa davanti a me inquadrando il contachilometri quindi avrò qua la mia GoPro oppure se voglio fare un bel video riprendendomi ecco qua lo posso orientare così questo è uno dei milioni di sistemi che esistono in commercio io mi trovo bene con i RAM prodotto americano sviluppato nell'esercito viene montato sugli hammer sugli elicotteri se vi fate una ricerca online veramente li trovate ovunque adesso addirittura lo usano per le moto per le macchine da rally per per la musica fanno i supporti per la musica è un prodotto eccezionale io lo consiglio e con questo vi saluto ciao ciao